E' in stato di fermo a Teramo con l'accusa di omicidio preterintenzionale. Giuseppe Di Martino, architetto di 46 anni, di Silvi, avrebbe spinto il padre Giovanni, meccanico in pensione di 73 anni, il quale in seguito alle profonde ferite riportate alla testa dopo la caduta, è morto nella notte all'ospedale di Atri, dove era stato ricoverato in gravissime condizioni. Il 46enne avrebbe strattonato e ferito il padre mentre si trovavano nell'abitazione di Via Dante a Silvi, poiché sarebbe intervenuto durante una lite fra i genitori in difesa della madre 76enne. L'anziano è morto poco dopo in ospedale, dove era stato condotto dal figlio, nonostante il tentativo dei medici di rianimarlo. Giuseppe Di Martino ha detto agli investigatori di essere sceso al piano inferiore della casa dove vive con i genitori, dopo aver visto il padre che aggrediva la madre nel corso dell'ennesima lite fra i due. Per fermare la furia del genitore e difendere la donna lo avrebbe afferrato per il collo sbattendogli la testa contro un tavolino. Le indagini sono condotte dai carabinieri del reparto operativo del comando provinciale di Teramo in collaborazione con i colleghi della stazione di Silvi, Giuseppe Di Martino per il momento in stato di fermo ed è indagato per omicidio preterintenzionale. L'interrogatorio di garanzia è previsto per la prossima settimana.